Secondo un'indagine dell'Agenzia regionale di sanità, il 73% dei detenuti negli istituti di pena toscani è affetto da almeno una patologia. La richiesta sanitaria dunque nelle carceri è molto elevata e interessa tra i grandi settori, la salute mentale dei detenuti, i disturbi dell'apparato digerente e le malattie infettive parassitarie. A queste va aggiunta una percentuale di suicidi molto più elevata rispetto a quella della popolazione generale, il 4% contro lo 0,006%. Per assicurare ai detenuti gli stessi diritti in tema di salute, la regione toscana ha avvarato nel corso dell'ultima giunta una delibera che prevede una serie di interventi nel biennio 2011-2012 proprio a favore della popolazione dei detenuti. Ci sono tutta una serie di progetti che stiamo portando avanti che miglioreranno la qualità della salute dei detenuti, una serie di progetti che avviceranno i nostri medici e i detenuti, che faranno crescere la professionalità anche per esempio per le piccole cose di emergenza e urgenza, anche di tutto il personale che lavora all'interno delle carceri. Un progetto che abbiamo sviluppato insieme al Dipartimento di Grazie e Giustizia, insieme al Dipartimento dei Minori, proprio per migliorare poi alla fine la qualità della vita anche dei carcerati e spesso anche di chi lavora nelle carceri. Per questi interventi la regione ha stanziato la cifra di 800 mila euro ed è stata la prima a regolamentare con una legge il passaggio delle competenze della gestione della sanità penitenziaria dal Ministero di Grazie e Giustizia alle Regioni.